La recensione Summerslam 2018, scena 13, take 8 Oh, bentornato sul canale Degli Nutan e The Boys Oggi siamo qua con la recensione di Summerslam 2018 Il Big Four, il secondo Big Four più importante di tutti Quest'anno all'edizione 2018, ovviamente Cosa abbiamo trovato? Allora, io direi subito di partire dicendo che abbiamo trovato un evento bello Finalmente ne avevamo bisogno perché Backlash, schifo Money in the Bank, ok, carino Extreme Rules, di avanti Rest in Mania, Nakagina Serviva un evento importante e bello E qua finalmente l'abbiamo avuto bello e anche e soprattutto divertente Ma andiamo subito con l'analisi dei match Con la recensione, la nostra solita recensione Tanto amata e apprezzata da grandi e piccini Allora, nel kick-off abbiamo avuto, l'unica cosa da sapere è che Almas e Regan hanno vinto Cedric Alexander ha difeso il titolo E anche il B-Team Tutti e tre, tra l'altro Tutti questi tre match vinti con un roll-up Non con una mossa finale, ma con un roll-up Non si serve sapere altro Poi, primo match e si è partito subito Pe-pe-pem Abbiamo avuto Dolph Ziggler che difendeva il titolo Contro Seth Rollins, Dolph Ziggler accompagnato da David McIntyre E Seth Rollins accompagnato da Dean Ambrose Match bellissimo, come ormai siamo abituati Da questi due qua a vedere match strepitosi Abbiamo visto mosse pazzesche Quello che bisogna vedere nel preview Ovvero cose innovative Mosse che sì I rotatori fanno Ma in chiave diversa come Ne avremmo detto nella recensione di NXC Ha fatto Velvet and Dream Qua ad esempio abbiamo visto Dolph Ziggler Che fa la sua jumping DDT Sull'epa, ma che l'ha preso benissimo Ha fatta perfetta Seth Rollins Abbiamo visto Seth Rollins che ha fatto una mossa Che ha fatto impazzire l'arena Ovvero il suo superplex falconero Ma ha fatto un reverse superplex E dopo ha fatto una specie di DDT in caduta Quindi benissimo anche lì Una specie di reverse falconero alla fine Match strepitoso Vinto da Seth Rollins E adesso vediamo cosa riserva il futuro per lui Secondo me Ovviamente tra un po' di Nembo splitterà Vedremo cosa succederà Ma Poi abbiamo avuto il New Day Contro i Blood and Brothers Il New Day all'assalto del titolo di Blood and Brothers Match che è stato un messo dei Blood and Brothers Avevo un massacro totale dei Blood and Brothers Tra virgolette come giusto che sia Perché comunque i Blood and Brothers sono dei big men Un big team Non un B-team Un big team E quindi D1 fa questo Il New Day l'ha preso per gran parte del match Dopo il fatto di Big E Che è il nome più grosso del New Day Ha fatto un po' Mambassa di mosse Anche Xebergus ha fatto delle belle mosse Come un elbow dal paletto all'esterno del ring Molto bello Match finito del New Day Quindi per squalifica Perché a un certo punto E' che proprio One prende Il loro martello Il fratello martello Prende il suo fratello martello E lo tira contro Big E E gli fa un buco con le panze E quindi In New Day vince questo match Ma i Blood and Brothers rimangono campioni Adesso sicuramente O a linea 6 Che prossimo preview O anche prima Ci sarà la rivincita Senza alcun dubbio Poi abbiamo Strowman Contra Kevin Owens Ha vinto Strowman In 1 minuto e 50 Non ho capito perché Magari fa un po' più di Marche interessante No Ha vinto Strowman in 1 minuto e 50 Andiamo Charlotte Contro Carmella Contro Becky Lynch Carmella che difende Il suo titoluccio Delle Women's di SmackDown Allora Un match che mi è piaciuto E' stato un triple threat Come dovrebbe essere Un triple threat Però veloce Dinamico Senza Prese statiche Alcune Carmella ne ha fatte alcune Però vabbè Scusatela Bel match Belle mosse Tower of Doom L'abbiamo vista Sì Doppie mosse Abbiamo visto anche quelle Abbiamo visto tutto quello che serve Per fare un bel triple threat Con un finale sorpresa Con la vittoria Oddio sorpresa no Perché comunque noi l'avevamo pronosticato Nelle nostre previsioni Che trovate qua in alto Vittoria di Charlotte E alla fine La cosa più bella Questo match cosa è stato Oltre al match in sé Il fatto che finalmente C'è stato il tanto atteso Turnhill di Becky Lynch Che ha attaccato Charlotte A fine match E il pubblico è esploso Il Barclays Center Era una polveriera Veramente Turnhill atteso da tantissimi Da me compreso Adesso vediamo Come sarà Becky Lynch In chiave Il Dato che anche Le H Le stesse Voleva turnhill Quindi vediamo Come la gestiranno Spero bene Poi abbiamo avuto Samoa Joe Contro AJ Styles Match Match veramente Bellissimo Perché Perché nonostante Samoa Joe Ovviamente È un big man Come l'abbiamo spiegato Nelle previsioni È un big man Deve fare prese statiche Perché ci sta il più veloce Di lui Quindi deve stancarlo E invece Comunque è stato Match molto veloce Abbiamo visto Più mossi d'impatto Che Prese statiche Diciamo che questo match È esattamente Quello che volevo vedere Ma sapevo che non l'avrei visto Perché mi aspettavo Un match lento Invece Ho visto quello Che volevo vedere Match Potente Veramente Bello da vedere Prese Mosse Magari Non Oh mio dio Che mosse ha fatto A un certo punto Samoa Joe Ha fatto una power slam Tipo quella di Randy Orton Ma l'ha fatto In un decimo di secondo Una potenza mostruosa Uno dice Sì Aveva una power slam Però fatta Con quella potenza lì È devastante Colpi Colpi stiff All'ennesima potenza Ginocchiata In bocca Sangue E DJ Styles Qualcosa Alla fine Il match finisce Con una vittoria Per squalifica Di Samoa Joe Stiles difende il titolo Perché a un certo punto Samoa Joe Se l'ha presa Con la moglie E la figlia Di Stiles Che erano Nel pubblico E lì Stiles Non si è più visto Pieno di sangue Con la faccia di sangue In tutti i sensi Ha Ci è lanciato Contro Samoa Joe Che aveva sul tavolo Ha spaccato La barricata E dopo Lì Aveva impazzito Aveva schizzato fuori Di testa Aveva una sediata Aveva massacravato Samoa Joe Quindi Il finale che mi è piaciuto Molto di più Di un finale pulito Perché Un finale così Salva Se Samoa Joe Che è una vittoria Una sconfitta Uno di noi sarebbe stata Molto Schiacciante Per lui E allo stesso tempo Il G-Style Una vittoria Schiacciante Sarebbe stata Molto pesante Quindi È molto meglio Fare Rimandare tutto Al prossimo preview Che è l'NSL Magari Tanto che la Faida Si sta facendo Molto pesante E fare un l'NSL match Sarebbe molto interessante Comunque Adesso vediamo Quando va a finire Comunque Bellissimo Bellissimo Match Poi abbiamo avuto The Meats Secondo Dianne Brian Un altro bellissimo match Il match che è durato di più Della serata 23 minuti e 30 I match che sono durati di più Sono questo Poi Samoa Joe Stask Che è durato 22 minuti e 45 E E Ziggler No scusate E Stavumano E Ziggler Contra Rollis Che è durato 22 minuti Comunque The Meats Secondo Dianne Brian È stato un bel match Che Ricorda Ha ricordato molto Come è stata costruita la Faida Ovvero dai tempi di NXT Ai Punch Punch in the face Ai Punch in the face Punch in the face Continuavano Con questa storia qua È stato un bel match Però Io non ho Tavumato Cioè il match Non mi ha tanto Trasportato Sì belle mosse Sì le mosse tipiche Sì Dianne Brian Fa i suoi yes kick E dopo gli fa dei meets Però Non ho visto La poesia Che dovrà dare Questo match Non ho visto La poesia Che ad esempio C'è in Ciampa Contro Gargano È stato un bel match Però io vorrei Una rivincita Magari In un NSL match Che sarebbe L'epico conclusione Di questa Faida Sarebbe molto bello Comunque Vittorio che va A The Meats Grazie a Maris Che gli tira Gli dà un tira pugni Maris che era Border Ring Scusate Sì sì Vabbè Nella prima fila Degli spettatori Gli dà un tira pugni Mentre Dianne Brian Vuole fare un sui sui die Un sui sai die Gli tira un pugno Con il tira pugni E qua Ci hai fatto Di Punch in the Face Quindi The Meats Vince Non a sorpresa Perché comunque Non l'avevamo pronosticato Adesso io spero Che finirà tutto In un NSL match All NSL Vedremo Chissà Ma Poi Demon King Contro Baron Corbin È tornato Il Demon King Il match è ovvio Cioè è inutile che A me daranno fastidio i commenti Secondo voi tornerà Il Demon King A Samuels No Perché Non ha senso Sprecarlo contro Corbin Che senso ha questa cosa Cioè Nathalya che comunque È stata costruita bene È un avversario Comunque Di 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 spessore come Baron Corbin Cioè non ho capito Questo Sprecarla contro Infatti Tornato E poi Che senso aveva fare Sto match qua Non aveva senso Infatti È tornato Il Demon King Ha vinto in un minuto e 35 Complimenti Complimenti Adesso vediamo Finbarlo cosa fare Da WWE Poi abbiamo avuto Nakamura Contra Jeff Hardy Match Da puntata settimanale Di Puntata settimanale Punto Neat Da mini event Di puntata settimanale Perché comunque È stato un match Godibile Jeff Hardy Che fa due Twist of Fate Fa una Swanton Bomb Nakamura Reversa Jeff Hardy Che dopo a un certo punto Ha deciso di suicidarsi Sportivamente Ma e non solo Facendo Una Swanton Bomb Dove Nakamura Era sull'epron Nakamura si sposta E Jeff Hardy Si spacca la schiena Lo riguarda sui ring Nakamura porta sui ring Jeff Hardy King Shasa 3 2 1 Sì 3 2 1 1 2 3 Vittorio di Nakamura È arrivato A un certo punto È arrivato Venti Orton Stava andando sui ring E tornato via Voglio picchiare Jeff Hardy È andato sui ring E tornato via Tornato indietro Diciamo Volevo I was here Volevo essere anche io A Summers Vabbè Comunque Poi abbiamo avuto Ronda Rousey Contro l'Exablish Ritoria scontatissima Di Ronda Rousey Che domina Per tutto il match Non c'è stata storia Uno squash match Uno squash Mesh Scors match di Ronda Rousey Ovviamente Che vince in 4 minuti Lesta lesta Nuova campionessa Di Rho Meritatamente Mi sono giudice di dire Perché comunque Ha fatto pochi match Però ogni match che fa Cioè Ricordo che ha sollevato Nijex da ferma E poi Comunque adesso vediamo Come gestiranno Ronda Rousey Penso bene Penso bene Forse Arrester Mania Perderà il titolo Chissà Non so Adesso sto ipotizzando Vedremo Poi abbiamo avuto Il main event Romarese contro l'Esan Che è stata la solita merda Però la merda Era un po' più Meno densa Del solito Perché all'inizio Nel match Ha arrivato Starroman Che ha detto Voglio incassare Non all'inizio del match Ma Io sono uno Che Vuole affrontare Faccia a faccia Che non vuole Attaccare I lottatori da dietro Vuole affrontarli A muso duro E quindi Quando finita il match Io incasserò Se Dopo questo discorso Affrontavo a muso duro E non voglio attaccare Le spalle E La valigetta Le incassi subito Perché dopo I lottatori sono stanchi Quindi Ti piace Vincere facile Il money De bank Serve proprio questo Ti piace Vincere facile Però dopo questo discorso Mi aspettavo che incassasse Starroman comunque Aveva stato lì Comunque fuori da ring Tutto il tempo Lesnar Reigns Con la solita merda Suplex E5 No non c'è stato Un E5 Solo suplex Starramente Superman punch Spiar Vince Reigns In 6 minuti 10 Però A metà match Dopo una Collisione fortuita Diciamo Tra Reigns E Starroman Lesnar Massacra Fa un E5 A A Starroman E lo massacra Con la valigetta E dopo fa Meta Lanciando la valigetta Sullo stage E prendendo proprio Lo stage in pieno Quindi Vittoria Di Reigns Nuovo campione Universale Complimenti Finalmente Lesnar Non è più campione E mi stupido Di dire Finalmente Reigns è campione E questo Che vi piace o no Finalmente Avremo un Campione combattivo Che difenderà ogni E questo è Innegabile E Chi dice contrario Comunque È stata una Summers molto Cutibile Dove in ogni match È stato qualcosa Da ricordare Come anche in Un H-Muro Conto Geffardi Il volo di Geffardi Il match Da 1 minuto A 35 Di Finn Balor E Baron Corby E il Demon King Cioè in ogni match C'è qualcosa Da ricordare Come ogni Summer C'è un match Che finisce Qualifica In ogni Summer Andate a vedere Le altre edizioni Ogni match Almeno un match Finisce Qualifica Questa edizione 2 Comunque È stata un'edizione Con pochi cambi Di titolo Solo 3 cambi Di titolo Su 9 Che è molto poco E anche molto bello Perché comunque Se no Ogni Summer Ci sono cambi Di titolo Giusto così Le previsioni Che avevo dato Avevano 7 e mezzo Mi sento di dare Come voto finale Un 8 o meno Non ho dato i voti A tutti i match Perché comunque Voglio fare qualcosa Di diverso 8 o meno Diciamo che Ecco Facciamo così I promossi Senza alcun dubbio Sono Rollins Ziggler Sha Il triple altaretta Femminile Samo Joe Contro Stice The Miz Contro Daniel Bryan E poi promuoviamo Anche Basta Non promuoviamo Nessun altro Tutti gli altri match Ronda Rouse Contro Alexa Luisa Vuoi dare la sufficienza C'è stato match così Dopo tutti gli altri Diciamo Dal 6 in giù Soprattutto Stroma Contro Kevin Loss Che non mi è piaciuto Per niente Com'hanno gestito Comunque Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Di questa edizione Di Summer Se vi è piaciuta Fatelo sapere Anche qua Nei sondaggi Che facciamo sempre Perché Per l'edizione Di Summer Sono due Mettete mi piace Scrivetevi Altre No Ci vediamo A una prossima O si sa cosa No si sa Al prossimo video Sarà la recensione Di Antimus 3 2 1 Di lì